Mi era proprio mancata la sveglia presto, il vestirsi pesante, ancora mezzo addormentato, riempire lo zaino, salire in macchina e partire in direzione delle montagne. Buongiorno compagni di viaggio, siamo a Sestriere questa mattina, è l'8 gennaio 2021, finalmente torniamo sulla neve. Dopo tanti mesi faremo l'escursione al Monte Rotta, vedete dietro di me inizia la passeggiata dal rifugio Monte Rotta. E qui abbiamo parcheggiato la macchina qua, ci sono meno 10 gradi almeno, fa decisamente freddo, ma è una giornata pazzesca. E da qua volendo si può raggiungere addirittura il Freiteve due ore e mezza a 2007, noi adesso faremo un paio di rette di camminata in mezzo al bosco. Guardate che bellezza. Questa settimana ha nevicato tantissimo, infatti ci sono due metri di neve e lo spettacolo infatti è stupendo. Era tantissimo che a gennaio non faceva così tanta neve. Laggiù si vede un impianto. Abbiamo lasciato la macchina a 2100 metri e come dicevo prima fa abbastanza freddo, però con il sole ci dovremmo scaldare un pochettino, soprattutto se camminiamo in salita. Guardate che bellino qua, c'è l'anello per la pista di fondo, per sciare, la salita è molto tranquilla e adesso nonostante le abbia affittate ho tolto subito le ciaspole, per intanto qua al momento non serve. Comunque ho passato a camminare 5 minuti per cominciare ad avere caldo. Che bello, che bello, che bello. Ciao, 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 ciao. Il luccichio della neve. Guardate che bello, di fronte a noi, lo Shaberton, tutto innevato. Ciao. 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 Cominciamo la discesa. Nel realtà non fa così freddo. Mi sono solo incappucciato per fare una foto. Ci andava proprio una super camminata, anche se tranquilla, sono contento. Il sole sta scendendo, sono le 3. Eccoci vicino alla macchina, guardate se è strano. E poi si torna a quello che adesso ci sembra la normalità, il silenzio notturno di strade vuote, la troppa distanza e sarebbe facile farsi travolgere le emozioni negative e sconforto. Ma non siamo mica stati buttati in questa palla piena d'acqua per piangerci addosso. Perciò armiamoci di pazienza, buone intenzioni e fantasie per restare a galla, andando avanti sempre con il sorriso. Si conclude così questo primo video del 2021, questa prima escursione sulla neve finalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!